Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su DayZ Ehm, volevo iniziare in un modo un po' più cauto, però Vedo subito che qua ci sono delle moto Diverse moto, tra l'altro Ehm, ci troviamo anche questa volta su un server un po' speciale, però Ehm, non è come quello dell'altra volta che conteneva un'immensità di veicoli Qua ce ne sono decisamente meno, però sono comunque abbastanza Per, eh, per divertirsi e farsi un giretto Quindi, ehi, ehi, dove cazzo è andato quel tizio? Aia, zombie! Zo! Quel tizio sta andando dalla parte sbagliata Dove cazzo? Amico, di là non c'è un cazzo, sei da là Devi girare, imbecille Di qua ci sono le cose belle su questo gioco E di là, siamo a Kamenka, siamo Comunque è una bella idea, ragazzi, scusate per l'inizio troppo movimentato Però, dicevo, è una bella idea Ehm, eh, avviare un server con dei veicoli dalle parti di Kamenka Perché, come sicuramente voi saprete, tanto cambio, cambio moto Come sicuramente voi saprete, vi ricorderete Eh, Kamenka era il proprio, il posto più brutto dove spawnare, no? Nell'area più, più desolata e nascosta del mondo di DayZ Quindi, eh, ora che abbiamo almeno la possibilità di farci un giro con una moto Partendo da Kamenka, le cose diventano molto più interessanti Ehm, quindi, obiettivo, obiettivo per... Oh mio Dio, zombie! Non mi attraversare la... Mi sfasci le ruote, per Dio Comunque, dicevo, l'obiettivo... Eh, non c'è un obiettivo Perché, ragazzi, questo è il gioco Qua siamo a casa noi Questo è il nostro gioco Il gioco che, eh, ha avviato il canale di YouTube Il gioco che mi ha divertito di più negli anni, negli ultimi anni E ultimamente non ci sto giocando tanto Perché, eh, ho poco tempo Il tempo che ho lo dedico ai... ai giochi nuovi che escono O a Warzy, o insomma Però mi dispiace, perché DayZ è stato il mio primo... Il primo, diciamo, il primo amore del canale When Gamers Fail Quindi non posso, non posso e non voglio lasciarlo da parte Ehm, quindi dai, diamoci alla pazza gioia con questa moto che abbiamo preso in questo momento Oddio! Di là c'è... Ehi! Un incendio, cioè Andiamo, andiamo... Noi siamo dei pompieri, siamo i pompieri E andiamo a soccorrere Quelli che ci sono lì dentro E a rubargli la roba Più che altro Andiamo! Andiamo, non mi ricordo neanche più Ah, ok, ecco, l'acceleratore Non stavo premendo l'acceleratore Eh... Aspetta, calmi però Oh mio Dio, il fuoco fa la g... Ma non è che ci muoio se entro qua dentro Non mi ricordo... Oddio, che cazzo? Frena, frena, frena! C'è gente morta, infatti Guarda! Ragazzi! Gear! Non hanno un cazzo Aspetta! Questo qua! Gear! Sì! Lui ha un Lee Enfield Questo potrebbe essere molto utile Perché anche aveva un bel po' di munizioni Ci prendiamo anche il cibo Eeeh, la busta Il GPS Il GPS Il PDV aveva questo qua Silenziato non di meno Oh mio Dio Questo qua era ricco ragazzi Rubiamogli tutto Senza proprio tutto Fammi vedere Aveva bendaggi Dammi tutta la tua roba preziosa Bravo! Adesso va a fanculo Quello lì non aveva niente Eeeh! Questo qui aveva qualcosa però Oh mio Dio Questo qua era armatissimo Dammi la tua roba E me... Vabbè E' meglio il Lee Enfield Sapete ragazzi Di quella... Di quel fucile suo Ci riprendiamo la nostra moto E va a fanculo a voi Grazie per la roba Ah che figata Queste cose su Warzee Non succedono eh ragazzi Non... Per ora Per ora Non succedono Molti di voi mi hanno chiesto in passato Di fare una recensione Eeeh Che li mettesse a paragone Io l'ho fatta Eeeh Quando ancora Non si sapeva tanto Di Warzee E devo dire però ragazzi Che A conti fatti Il divertimento Che mi ha dato DayZ Non è stato pareggiato Da Warzee Quindi Non so se Io spero Mi auguro di tutto cuore Che con lo sviluppo Eeeh Warzee migliori Al punto da superare DayZ Però Per ora Eeeh Continuo a pensare Che DayZ sia Un gradino sopra Anzi anche un paio di gradini Va Comunque non lasciamoci Eeeh Prendere Dalla nostalgia E andiamo avanti Qua che c'è una Ma uddio E' una macchina questa Bellina Però preferisco la moto Perché è più agile E' molto più agile E' più divertente La moto Quindi noi andiamo avanti Da qui dovremmo arrivare Se non mi ricordo male Chi è che mi ha rotto la gomma Però Eeeh Chi è stato Qualcuno mi ha sfasciato la gomma E' davanti E' bassa E' la mia mo Si infatti Comunque dovremmo arrivare All'aeroporto di Balota E infatti Eccolo qua Ehm Quindi se non c'è nessuno Cattivo Che ci vuole Trucidare Ma qua vedo Guardate un attimo Ah no Niente Niente Beh questo server E' bilanciato Rispetto a quello Dell'altra volta Perché ci sono tanti veicoli Si Però non sono così tanti Quindi E' vivibile Dai E' vivibile Quello dell'altra volta Se vi ricordate Ragazzi Ogni incrocio Ogni incrocio C'erano cinque macchine Che cazzo è E' troppo così Troppo Qua all'aeroporto però Ci sono diverse automobili Bene Vabbè L'aeroporto Dai ci sta Che ci siano più macchine Sono Belle C'è il furgoncino Della pizza di là Vediamo Vediamo Voglio scendere adesso Voglio scendere Mi faccio un giro Anche Bellini Qua Questo qua E' strano Questo furgone E' di là Ci sono delle macchine Particolari Questo qua E' assurdo Però Secondo me fa schifo E' tutto distrutto Vediamo Non parla Oh mio dio Oh mi hanno sparato Mi hanno sparato Mi hanno sicuramente sparato Ho sentito io Oh e C'è un tizio Gli sparo Gli sparo in testa Gli sparo In testa Spara Spara Ho intravisto io Oh mio dio Ho intravisto Cioè Non sono sicuro Ma Mi sembra di aver Intravisto qualcuno Quindi Mi tolgo dalle balle Prima che succedano Brute cose Via Evadi Fuggi Fuga Ma che ca... Non riesco a capire Se mi stanno sparando Addosso O se è il rumore Della moto O se è uno Che non ha la mira Perché non lo so Non mi ha preso Una volta Mo Comunque me ne fuggo Ragazzi Me ne fuggo Perché non mi è piaciuta Niente La situazione Di là E oltretutto C'ho un riflesso Sullo schermo Che mi priva Di vedere La parte destra Del monitor Quindi Sono cazzi Adesso aspetta Devo Assolutamente Devo Aspettate Appena La moto è dritta Perfetto Così Abbasso La La L'avvolgibile Vai Corri Corri Ah Ditemi se muoio Ditemi aiuto Eccoci Eccoci Ok Ok Tutto a posto Tutto a posto Oh mio dio E qua che cazzo c'è Cazzo è questa Oh C'è un agglomerato Di veicoli Oh no Ho preso del filo spinato Bello Ma Sono tutti sfasciati Però Quasi Aspetta ragazzi Fermi Aspettate Allora il camion è sfasciato Però Chi cazzo Ma di là c'è un morto C'è un morto Ci sono altri ca Oh mio dio Questo qua aveva un fucile da cecchino Gear Gear Bello M4A3 5 3 round Non so se è meglio Secondo me è meglio Il Lee Enfield Io mi tengo il mio ragazzi Lo so Alcuni di voi mi diranno Lion sei scemo Però a me il Lee Enfield piace Sono affezionato E questo ca Guardate Come è messo Se è verde Questo ce lo prendi Ah Non ha benzina Ah Dannazione E questa E questa ragazzi Come sarà messa No Anche questa è vuota Porca vacca Oì Qua c'è un altro morto Questo che aveva Gear Un fucile MK12 SP Beh Ok Ora Si fa un altro discorso Però Questo è più cazzuto assai Una ruota Aveva questo qua Dammi la ruota Dammi la tua ruota Bellina questa arma però No Minchia Un mirino Come si deve Questo camion qui Questo qui Ha una ruota in meno Però Ha poca benzina E se guardiamo nel gear Nel gear che ha Uddio L'M Oh mio L'M60 Ragazzi ha questo camion Prendiamocelo Rubia La ruota Ve la potete mettere nel Perché io mi prendo L'M60 Con Munizioni Con munizioni Non privo Minchia è bello Quest'arma non c'era Quando giocavamo Noi Tanto Vediamo un po' Adesso mi prendo questa Vediamo se questa va bene Nemmeno Ok Non va bene nessuna Di queste macchine Porca vacca però Mettila di camminare di lato Imbecille Ma Ma è mai possibile Che nessuna di queste macchine Abbia Una tanica Dentro Qualcosa Niente Niente Ma porca vacca Ragazzi Aspetta Forse Forse Questo Eh Lui Niente Vabbè Vaffanculo Allora Sa che vi dico Io ragazzi Adesso noi ci prendiamo La nostra moto E ce ne andiamo Vaffanculo Però prima 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 Fermi Facciamo esplodere Il quad Facciamo esplodere Braba 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 A morire Quad di merda E non muore Sentite che casino Che fa questa Che figata Quest'arma Cazzo Non l'ho presa mai Ma è bella Bella Che senti Bellissima Va bene Esplode Oh la abbiamo Ah Ha tirato gli zombie Fuga 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 Aia Porca vacca Mi sono Mi sono gommizzato Mi sono quasi gommizzato Aspetta Fermi No Gli zombie Esci Spara Zombie Spara Mori Che cazzo Volete fare Vi bombardo Io Sai Ok Li abbiamo Li abbiamo Sterminati Fammi adesso Vedere Se questo camion qua È messo meglio Perché la mia moto Ormai Eh Ehi Sali sul camion Bravo Vuoi salire Oh mio dio Ha problemi Questo personale Sali sul camion Eh ok Non ci sale Non so perché Ma non ci vuole salire Hai una fobia Dei camion Non so Sulla macchina Ci sali È salito Sul camion Ma è senza benzina Ah no Ora sono sulla macchina Va bene Vaffanculo Mi prendo una moto Va Aiuto No Ah Oh Oh mio dio Che cazzo Fight the death Oh che cazzo Succede Aiuto No Siamo in un evento Zitti Zitti Imbecilli Oh mio dio Welcome to thunderdome Guns are in the huge cargo box I'm very sorry You guys scared the living crap out of me Oh mio dio Oh mio dio Jesus Christ Is he gonna kill us all Sono mo Che cazzo è successo Questo è stato un evento speciale del server Tipo Non ho idea Però mi scoccia un pochino Te lo scoccia E ci stai zitti Oh mio dio Che cazzo sta Chi è quello Ma che cazzo Ragazzi che cazzo sta succedendo Cos'è tutto ciò Io non ci ho capito Chi è quello Solid Snake Solid Snake Sei tu Colonnello Friendly Zitto Vi muto Devo parlare io adesso Friendly muto Oh mio dio Ma che cazzo Ragazzi Cos'è super Qualcuno mi spieghi Perché è successo tutto ciò Io avevo tutti i miei Zitto anche tu Porca puttana Avevo tutti i veicoli Le cose Le armi Tutte cose E poi mi hanno fatto questa cosa qua Volete stare zitti Devo parlare Oh mio dio Ok ci dobbiamo disconnettere Zitti Avete noto i maroni Ah Ancora parlano Disconnetti Oh ragazzi E' stato bello Però Porca vacca Che finale strano Bene In ogni caso Io vi auguro Una buona giornata E se la giornata di oggi Dovesse essere finita Mentre guardavate questo video Riguardatelo domani Così potrò augurarvi di nuovo Una buona giornata Lion Out Ciao 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 Ciao